Questi giorni ci sono stati diversi matrimoni. Ci sono stati due matrimoni. Ci sono stati due matrimoni. Il matrimonio di Diletta Leotta è quello di Cecilia Rutighez. Allora, facciamo due analisi. Il matrimonio di Diletta Leotta ha sancito un enorme potere mediatico di Diletta. Perché? Perché nel momento in cui... Scusa un attimo se ti interrompo. Ti ricordi la tua profezia, vero, su questo matrimonio? Ma guarda, posso dirti a oggi? Io ho detto... 2026. Entro il 2026. Cambio. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Si ritratta. Si ritratta. Io avevo detto che Diletta Leotta e Loris Cario... Come si chiama? Loris Cario? Detto Giuggio Lora. Ma poi tra parentesi posso dirti una cosa. Ma l'hai visto te? Magro, magro. Con la panza. I capelli non mi piacciono. I capelli rossi. Le gambe magre. La panza. Ma come quello? Dai, l'amore è l'amore. Tutti i puntini butterati. Capito, dai. I capelli metti in pan... Ma se pesa lei... Un crollo di... No. Quando usciva la prima volta sembrava un figo devastante. Ma lo vedi... Allora, ragazzi, vi voglio insegnare una roba, no? Le storie Instagram. Voi non le dovete guardare così. Allora, l'informazione, la fotografia, l'immagine... Se la guardate bene... Voi non dovete ascoltare quello che vi comunicano le storie Instagram attraverso le parole di chi guardate. Ma vi dovete guardare oltre la storia. Cercare di guardare come ci si comporta i piccoli dettagli. Se uno guarda, soprattutto si rende conto che l'Oriscario sia uno sfigato. E' un giuggiolone incredibile. Detto che all'interno proprio delle storie ti rendi conto che lui non esiste in quel matrimonio. Secondo me non aveva invitato neanche i genitori. Non c'era un compagno di squadra. Non c'era nessuno. Cioè lui, lei prendeva un pupazzo. Era uguale. Quindi il matrimonio era di diletta alle otta. Cioè, non era il matrimonio di diletta alle otta. Era il matrimonio di diletta alla fine. Basta. Punto. Quello è vero. Tra l'altro c'è un gossip qua, un'esclusiva. Diamo anche delle esclusive. Il fratello Mirko si è sposato con una dottoressa. La moglie non c'era. Non so che possa interessare. Sono amici miei perché sono cresciuto. Quando ero piccolo. Ma non si sa. Il motivo non si sa. Pare che si sia rotto qualcosa. Pare. Però nessuno l'ha fatto notare. Comunque il matrimonio di diletta alle otta è stato il matrimonio di diletta alle otta. Ha certificato che l'Oriuscarios non esiste. Io avevo fatto una... Una... Uno dei miei... Come li chiamiamo? Profezie. Una delle mie profezie. Avevo detto che sarebbe lasciato entro... Il 2026. Il 2026. Luigi. Cambio della profezie. Diletta alle otta e l'Oriuscarios si lasceranno entro il 30 giugno del 2025. Cioè ho anticipato... Vedendo le cose... Sei mesi. Ho anticipato... Ora io prego il Dio che Marco sarà ancora vivo. Che io sarò ancora vivo. Che questa trasmissione ci sia. È scontato perché è il podcast più bello che esiste in circolazione. Però se ci siamo tutte e due noi saremo qua il primo di luglio a dire cazzo Fabrizio avevi ragione. E vedremo Diletta e Leotta fotografata con un campione americano. Uno famoso. Aspetta, finiamo. Quindi lei sancisce un potere enorme della Leotta perché nel momento in cui tutti i top artisti Unziger, Ferragni, la famiglia Berlusconi, Canalis, produttori, attori e genti della... Salutiamo il comandante. Sempre numero uno il comandante. Produttori vanno lì, tra parentesi, in un matrimonio bellissimo, organizzato da Dio con uno scenario pazzesco. Sembrava, guarda, in meglio il matrimonio di Ferragnius. Sancisce un potere mediatico della Leotta che deve tutto questo all'organizzazione della sua persona, alla costruzione della sua persona, del suo personaggio, a tutto quello che la circonda, sua madre, che l'ha fatta nascere, l'ha partorita, l'ha istruita, l'ha modificata chirurgicamente, gli ha dato un insegnamento, gli ha fatto fare le scelte giuste, è diventata la sua manager, ingerisce tutto e ha creato un mostro mediatico che sarà una che lavorerà sempre e vorrà sempre di più. Per questo, e avrà successo, per questo Loris Carius durerà massimo un altro anno. Massimo, ho detto, quindi siamo al primo di luglio, già tra un anno a quest'ora lui sarà nel dimenticatoio, tra cinque anni lo vedremo con la panza. E quindi questo è il fenomeno di Diletta Leotta. La cosa più divertente è che a un certo punto tu vai, non poteva succedere negli altri anni che tu andavi a un matrimonio con cui era stata concordata un'esclusiva giornalistica a chi, che magari pagata, e ti potevi permettere di fare delle storie in anticipare, tu vedi che fino a un certo punto della chiesa, il matrimonio, nessuno posta. Ovviamente noi giornalisti li abbiamo inventati, e già appena posta qualcuno andiamo col matrimonio. Chi è stata la prima? Chiara, subito, subito. Parte la Ferragni, proprio appena si vedono due sposti, incominciamente la storia, perché? Perché le visualizzazioni si alzano, e perché il ricordo del matrimonio colpisce, e perché le lacrime piacciono, a ruota, mentre guardavamo internet e tu, cazzo, ma la farai? Praticamente c'era il filmato del matrimonio su tutti i social, su tutti i post. I cazzi vostri, porca. Borda. Invece, matrimonio, posso dire solo io una cosa? Matrimonio Cecilia e Rodriguez, più che il matrimonio di Cecilia e Ignazio, mi sembrava un po' la festa di Tony F. Mi ha espresso proprio, non so se hai visto un po'. Ma, lasciamo perdere Tony, parliamo qui di cosa, la roba, lasciamo perdere, parliamo quello che ti disturba, secondo me, non voglio fare il, soprattutto io sono uno che non gli fotte un cazzo, cioè, il matrimonio di Cecilia e Ignazio era davvero brutto, era brutto il posto, erano brutti gli invitati, non dico Tony questo, c'era la gente brutta, perché poi, per gli dati importanti, c'è Joseph Capriati, uno dei più grandi DJ che esista al mondo, lasciamo perdere i cantanti che sono cantanti, ma la gente, quelli che c'erano, c'erano gente sconosciuta, brutta gente, il posto era brutto, la musica era brutta, cioè... Non ti è piaciuto, dai, non ti è piaciuto. No, non mi è piaciuto perché, se tu esci una settimana prima col matrimonio della Leotta, ok? La Leotta, e comunque è il matrimonio dei Rodriguez, ti sto facendo questa analisi, lascia perdere Tony che ha cantato, la storia dell'arte Lellis, quella roba lì, insomma, non ci interessa, non facciamo gossip sui trapper noi, però se tu guardi il matrimonio, se facciamo un'altra analisi, se tu guardi il matrimonio della Leotta e guardi il matrimonio dei Rodriguez, una volta i Rodriguez, erano i Rodriguez, Belen dettava la legge a testa e a sinistra, comandava, cioè, era, uno te lo immaginare maestoso, c'era Belen, c'era Geremia, c'era il padre, c'era la madre, stiamo parlando di Cecilia che si è sposata con Ignazio Moser, cioè, suo padre è un'istituzione nazionale, un uomo, uno dei campioni del mondo ma soprattutto una famiglia con i contropoglioni, borghese, ricca, per bene, ok? Cioè, invece ti trovi una roba da, cioè, proprio da balera, da serie C, da serie D, ti dispiace un po', ma ti dispiace poi un dice, ok, ma che cazzo te ne frega, si saranno divertiti? Sì, si sono divertiti, ma rispetto per quanto riguarda l'immagine e la proiezione economica del lavoro futuro, è come l'Italia agli europei, Cecilia ha perso in comunicazione e lavorativamente 100 punti, e oggi non avrei pagato tanto per mettere un abito a Cecilia, io oggi non prenderei Cecilia più per fare delle cose di alto livello, proprio nel momento in cui fai un matrimonio che ti posizioni bassa, contro un matrimonio alto, il tuo peso, il tuo valore cambia. Ora, noi qua stiamo parlando di analisi di comunicazioni commerciali di valore, stiamo parlando, non stiamo spettegolando a quello che è scopato con quello, analisi di mercato, ma ha cantato quello, ha cantato con quello. Tu dici, è il mio matrimonio, sì, lo voglio fare come cazzo voglio, certo, a me mi piace vivere così, io vivo, sono una di strada, devo dire, bene, però se non metti davanti il tuo lavoro e quelle cose lì, a me ci sta, va bene, ti sei sposata, ti sei divertita, diventate amici, ma purtroppo quando fai queste robe devi pensare anche alla comunicazione, perché la comunicazione ti fa vivere, quindi il matrimonio di Cecilia è stato un disastro, mi dispiace, poi gli faccio gli auguri. La domanda è questa, ma secondo te, perché non sono stato invitato? Infatti, come mai non sei stato invitato? Sto scherzando, dai. Ma non sei stato invitato? Cioè, sei stato invitato e non ci sei andato? No, tu lo sai, i rapporti che ho, cioè, Belene è una delle mie migliori amiche, io li voglio un bene infinito, Cecilia me la sono cresciuta, sono stato quattro anni, me la sono... E perché non ti hai invitato? Prima di tutto perché ormai non c'entro un cazzo con la loro famiglia e quella roba lì, secondo non c'è una vita, e credo che potevo essere anche un elemento destabilizzante. Ti prendi troppo la scena, capito? Però ci sta, però allora, quindi, il commento, ci tengo a dirlo, perché io non voglio parlare male. Io ti faccio un ragionamento a livello di comunicazione, non a livello, poi... Ah, certo, certo, chiaro. Sicuramente, e ti apro una parentesi romantica, Ignazio è cambiato, ha fatto un suo percorso in questi tanti anni della storia con Belen, ha cambiato tantissime abitudini, chiamiamole così, perché sono successe le cose che li hanno fatte cambiare. E oggi, finalmente, comunque una coppia resta insieme da tanto, ed è una bellissima coppia che si ama veramente. Questo è importante. Finalmente! Un applauso, un applauso! Il resto è contorno, puramente contorno. Però è da analizzare, è da analizzarsi.